Si era sposata tardi nel giugno del 1943, dopo i bombardamenti degli americani su Cagliari, e a quei tempi avere trent'anni senza ancora sistemazione era come essere già un po' zitella. Non che fosse brutta, o che ne mancassero i corteggiatori, anzi, solo che a un certo punto i pretendenti diradavano le visite e poi non si facevano più vedere, sempre prima di avere chiesto ufficialmente al mio bisnonno la sua mano. Gentile signorina, cause di forza maggiore mi impediscono questo, nonché il mercoledì venturo, di farvi visita, cosa che sarebbe a me graditissima, ma purtroppo impossibile. Allora nonna aspettava il terzo mercoledì, ma sempre arrivava una ragazzina con la lettera che rinviava ancora, e poi più niente. Il mio bisnonno e le sue sorelle le volevano bene, anche così, un po' zitella, ma la mia bisnonna no, la trattava sempre come se non fosse sangue del suo sangue, e diceva che sapeva lei perché. La domenica, quando le ragazze andavano a messa o a passeggiare nello stradone a braccetto con i fidanzati, nonna raccoglieva in una crocchia i suoi capelli, ancora folchi e neri quando ero piccola, e lei già anziana, figuriamoci allora, e andava in chiesa a chiedere a Dio perché, perché era così ingiusto da negargli la conoscenza dell'amore, che è la cosa più bella, l'unica per cui valga la pena di vivere una vita in cui ti alzi alle quattro del mattino per le faccende domestiche, e poi vai nei campi, e poi a scuola di ricamo noiosissimo, e poi a prendere l'acqua da bere alla fontana con la brocca in testa, e poi stai sveglia una notte intera ogni dieci per fare il pane, e poi tiri sull'acqua dal pozzo, e poi devi dar da mangiare alle galline. Allora, se Dio non voleva farle conoscere l'amore che l'ammazzasse in un modo qualunque.